Io, ripeto, ho preoccupazioni per lo Stato del dibattito in Italia e se questo libro può sollecitare qualcuno che partecipi molto quotidianamente alle discussioni, alle polemiche politiche o anche alle prospettazioni elettorali, prossime avventure, se può contribuire a sollecitare perché si occupi di più di Europa e di Europa-Mondo sarei soddisfatto. Grazie.